Stiamo girando questo video dall'Hashend di Huawei, il P7 video in Full HD 30 frame, mi pare un po' scattoso La location è un po' diversa dal solito Proviamo a camminare un pochino in modo da testare la stabilizzazione Ora mi avvicino al soggetto Per mettere a fuoco bisogna fare un tap sul display Ripeto, prova video in Full HD dal Huawei Ashend P7